Nei giorni scorsi, sui maggiori quotidiani italiani, si è parlato di welfare, è da un po' di tempo che si parla di welfare nelle famiglie e anche all'attenzione del governo Renzi di questi argomenti, del mercato del lavoro, delle difficoltà a cui ci sono le famiglie, i lavoratori dipendenti e quindi anche si è parlato di asili nido per esempio, si è parlato della difficoltà che hanno gli italiani, i lavoratori dipendenti di portare i figli all'asili nido in quanto c'è stato un rincaro talmente alto, ma non è soltanto questione di rincaro, è proprio che le famiglie hanno difficoltà, vista la situazione economica difficile, a far fronte al pagamento delle rette degli asili nido. Questo è un problema generalizzato da nord a sud e quindi in momento di difficoltà sono i nonni che praticamente devono accudire ai nipoti, per carità benvenga dallo stato profilo del valore aggiunto che ha l'assistenza ai nipoti, ma sicuramente un problema che ha delle ricadute non soltanto economiche, ma anche questione di tempo e anche altri problemi. Noi questo problema, quando parlo di noi parlo di comprofessioni e soprattutto del fatto che la comprofessioni aveva attivato ancora da molti anni la CADIPROF, che è la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali, nata dal contratto collettivo, dove è previsto che praticamente ogni datore di lavoro per i propri dipendenti e non solo dipendenti, ma anche collaboratori, coordinati e continuativi, praticanti, cioè quelle figure in un certo senso che operano all'interno dello studio, assicura attraverso il pagamento di una somma pari a 15 euro al mese, che viene aggiunta ai contributi che devono essere versati tramite il modello F24, assicura i lavoratori dipendenti per un'assistenza sanitaria integrativa. Ma in aggiunta a questo, noi abbiamo previsto fin dal 2009 una serie di misure che abbiamo chiamato pacchetto famiglia. Tra queste misure c'è anche la retta dell'asilo nido, cioè in buona sostanza un lavoratore dipendente uno studio professionale, quindi che ben sappiamo che occupano mediamente l'88% sono donne, la maggioranza dei dipendenti sono nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, ci sono nel Veneto, in Piemonte, ovviamente nelle regioni più industrializzate e che hanno maggiori prestazioni professionali, ma poi alla fine anche ci sono in tutte le altre aree d'Italia. In questo caso quindi noi abbiamo previsto che per i dipendenti sui professionali che hanno avuto un figlio, hanno avuto questa situazione che si è realizzata, possono portare il figlio all'asilo nido e chiedere il rimborso alla cassa. Questa quota è di 600 euro, che aumenta a 800 euro nel caso di bambini con handicap e è pari al 20% della spesa annua. Quindi se in un anno sono stati appunto pagati 1.200, 1.000 euro, si può rimborsare fino a 600 euro, quindi è una quota importante, fino a un massimo di 600 euro, fino per i bambini del primo ed il secondo anno di età. È sicuramente un aiuto importante per le famiglie e hanno fatto registrare nell'anno 2013 un significativo aumento rispetto all'anno precedente, un aumento che noi abbiamo riscontrato nella misura del 18%, cioè nell'anno 2013 la cassa ha rimborsato 1.419.990 euro per asilo nido rispetto a 1.205.000 dell'anno precedente. In pratica i fruitori sono stati oltre 3.000, per la precisione 3.441, se sono stati distribuiti in tutte le parti d'Italia. Quindi con il ragionamento che facevo prima sono stati ben 8.200, oltre 8 milioni, l'importo che è stato richiesto alla cassa e la cassa è intervenuta appunto con il 20%. Possiamo dire sicuramente che questi interventi che la cassa fanno per sostenere gli asili nido sono veri e proprio, da una parte possiamo chiamarli un rimborso, perché chiaramente la richiesta viene fatta attraverso un inoltro in via informatica, quindi non c'è carte, documenti che girano, ma viene fatto tutto quanto tra trasmissione telematica e poi la cassa procede con il rimborso, con le modalità che ho appena detto. Però a parte questa circostanza, questo intervento che viene fatto è un vero e proprio sostegno a reddito. Come l'assistenza sanitaria integrativa si sta rivelando uno strumento molto utile per le famiglie che anche questi in questa situazione di criticità vedono diminuire le spese odontoiatriche, anche le visite mediche e soprattutto anche le analisi che stanno diminuendo proprio perché il potere d'acquisto delle famiglie sta sempre di più diminuendo. In questo caso l'intervento quindi della cassa a favore dei propri iscritti è assolutamente significativo in termini economici perché o vengono rimborsati il ticket pagato se viene fatta una prestazione presso una struttura convenzionata oppure viene rimborsato il valore della prestazione nel caso uno si sia recato presso altre strutture convenzionate. Chi sono i soggetti che possono usufruire di questo rimborso per asilo in nido? Sono tutti quanti i figli, lo possono chiedere il dipendente di studi professionali che può essere sia il maschio che la donna, basta che sia un dipendente il cui datore di lavoro paga regolarmente l'iscrizione alla Cadi. Possono essere i figli naturali, legittimi, in affidamento, adottivi, cioè tutti quanti i figli che facciano parte del nucleo familiare del dipendente degli studi professionali. Poi oltre a questo noi abbiamo fatto anche degli altri interventi che possono essere di assistenza pediatrica, quindi praticamente anche rimborso per primo anno di età del bambino anche per altre spese che sono pannolini, spese farmaceutiche, assistenza poi pediatrica aggiuntiva, spese mediche, spese farmaceutiche, cioè noi cerchiamo appunto di intervenire per dare una mano ai dipendenti degli studi professionali o ancora per gravi eventi che possono essere capitati. Altre considerazioni in merito a questo, diciamo che possiamo dire che per le classi di età, cioè mediamente quelli che richiedono per rimborso dell'asilo nido, sono collocati nella fascia di età dai 30 ai 39 anni, sono circa il 60%, invece per i 40 ai 50 anni sono il 38%. Anche questo è un dato significativo che conta molto in una situazione di criticità. La popolazione in questo momento che è assistita dalla cassa sono circa 300 mila iscritti, sono un numero decisamente importante che rappresentano un po' il panorama dei dipendenti degli studi professionali che operano in tutte le categorie e che applicano il contratto collettivo di dipendenti degli studi professionali che appunto prevede questo pagamento di questa quota che viene appunto destinata a questa specifica situazione. Oltre al pacchetto famiglia, oltre al rimborso della retta degli asili nido, noi come pacchetto famiglia abbiamo previsto anche l'assistenza ai familiari non autosufficienti, in questo caso sia quando ci sia un familiare che può essere, che ha un livello di non autosufficienza, sia che sia ricoverato in una struttura protetta, può essere una casa di riposo o altro, oppure che si paghi i costi di una badante per assistere in casa l'anziano oppure diciamo quello che ha queste patologie di non autosufficienza viene rimborsato a fino a 1200 euro l'anno. Poi abbiamo anche fatto degli interventi per la procreazione medica assistita, cioè anche in questo caso prevediamo la possibilità di assistere chi vuole avere figli che ha delle difficoltà e quindi deve ricorrere alla procreazione assistita, cioè cerchiamo di interpretare i bisogni dei dipendenti dei studi professionali. Abbiamo intenzione ora che c'è il rinnovo del contratto collettivo che è appena partita la trattativa perché il contratto è scaduto il 30 settembre dello scorso anno, abbiamo intenzione di potenziare ulteriormente queste misure di welfare perché sono sicuramente un segnale importante di quanto il mondo professionale sia vicino ai lavoratori dipendenti che voglia garantire loro al di là del trattamento economico riservato contratualmente anche delle misure che possono far capire quanto noi siamo vicini ai problemi della gente, ai problemi delle famiglie che ovviamente in una situazione di criticità come quella di carattere economico che c'è adesso, un intervento di aiuto economico è di basilare importanza per assicurare una serenità che poi si trasmette in termini così diciamo nel rapporto di lavoro e quindi di rendere nei migliori modi la propria prestazione lavorative